Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archevi Parla, ed è già partito il preload e l'aggiornamento per la stagione 2 di Vanguard. Molto interessante che come è stato anche per la season 1 reloaded, alcuni contenuti di zombie, per quanto pochissimi, siano già disponibili su Vanguard e possono quindi essere provati. Quindi vi consiglio di aggiornare il gioco, che sono circa 12 giga, e provare alcune di queste piccolezze già aggiunte. Terak ha inoltre pubblicato una specie di roadmap aggiuntiva dedicata soltanto a zombie, e han detto quando hai così tanti contenuti che serve una roadmap alternativa. Il che comunque è molto interessante, mi dà come sempre tantissimo ottimismo per quanto riguarda le season a venire. Comunque questa è la roadmap con appunto Terra Maledicta come nuova mappa, nuovo nemico Zabala the Deceiver, tutte le rene di Terra Maledicta, quindi Corrupt Lens, Eastern Desert, Hollow Truth, Wonder Weapon, Desimetro Shield, Dragon, Story Quest, nuovo obiettivo, nuovo alleato, nuovo artefatto, tutte cose che appunto già sapevamo. In aggiunta alla parte a destra, non presente nella precedente roadmap, nuovo Covenant che è appunto il patto che hanno già aggiunto nel gioco, nuove metiche Paka Punch disponibili sia adesso alcune diverse per The Nonfang, sia quelle nuove in Terra Maledicta già anche liccate. In più di Xbox dove scavare come Origins di Black Ops 2 e Black Ops 3, nuove Intel, sperando ci diano finalmente un menu come in Cold War, nuove challenge di Season come ogni Season, e nuove armi, Wheatley e KGM-40. Ricordiamo che queste sono le due armi disponibili fin dal lancio, presenti nel Battle Pass nella parte gratuita, mentre le altre due armi aggiuntive arriveranno in Season, probabilmente con delle sfide apposite. Passiamo invece in questo caso al blog di The Jammer Games con tutte quante le patch notes per questa stagione. C'è una specie di piccolo rassunto per tutti quanti i contenuti che stanno arrivando, non starò qui comunque a ripeterli una seconda volta, vi rimando al video precedente, in cui ho dettagliato per bene tutti i contenuti di Warzone, Multigiocatore e chiaramente Zombie. Questa è quindi per adesso una patch preliminare dove hanno aggiunto e elencato tutti i contenuti, ma non penso che ci siano stati dei cambiamenti veramente grossi al gioco, a parte appunto delle piccolezze, in preparazione a questa Season, sono sicuro che ci sarà un altro aggiornamento al Day 1 della Season, o comunque in quei primissimi giorni. In ogni caso in questo periodo precedente, in cui è stata rimandata la stagione 2 di ben 12 giorni, si sono dedicati a continuare a fixare tutti i problemi di stabilità del gioco, di connessioni, crash, tutti i problemi con le armi, il bilanciamento e tanto altro, e continuano a fare così anche per le prossime Season, stanno attenti a comunicarlo su Souljammer Games, Call of Duty, sui blog, tutti quanti i social possibili e immaginabili. In più, come sempre, Terk è come loro partner perché loro stanno facendo zombie, e vi ricordo che fanno anche le classificate di Vanguard, per adesso in beta in questa stagione 2. Quindi saltiamo l'elenco dei contenuti e andiamo invece alle patch notes della stagione 2, con alcune cose che, come ho detto prima, arrivano direttamente al lancio della stagione 2, altre cose già disponibili che cercherò di elencare, e sono comunque segnate in queste patch notes. Quindi per i nuovi contenuti, Terra Maledicta con una nuova hub map, come è esattamente Red Star Stalingrado, su Deranfang, e infatti non so se avrà un altro nome completamente diverso, questa specie di Deranfang 2.0, perché Deranfang era il nome di questa primissima modalità, questa forse si chiamerà direttamente Terra Maledicta, staremo comunque a vedere. Come ho detto prima, le arene, Wonder Weapon, nuovo alleato Verkhana The Last, il demone, il nuovo nemico, il nuovo artefatto, obiettivo, covenant che è il patto, nuova story quest, quindi easter egg e narrativa di intel, armi, pack a punch e sfide stagionali. In più ovviamente tutti quanti le stability improvements e bug fixes, che arriveranno sia al lancio della stagione, sia durante la stagione stessa, sperando di incontrarle come al solito pochissimi problemi, perché altrimenti potrebbe essere veramente disastroso. In ogni caso, come detto anche nel blog precedente di Call of Duty, questi sono i contenuti della stagione 2, per l'arrivo di Terra Maledicta come esperienza di zombie, tutte quante le arene, nuovi nemici, nuove sfide, nuovi Wonder Weapon e tanto altro, e appunto la main quest. Andremo a una regione completamente originale del letteroscuro, per adesso non mostrata, ritornano i side easter egg, ritorna la reagan come arma classica, vera e propria Wonder Weapon, e tanto altro direttamente disponibile su zombie. Qua si parla, finalmente, che non era invece accennato nel blog precedente, e anch'io mi sono dimenticato, della pausa. La pausa ancora una volta sta venendo testata, e non arriverà probabilmente al lancio della stagione 2. Questa è una delle poche cose per cui continuo a dire che è una pecca gigantesca, e una pessima mancanza, di cui continuo a non essere per niente contento. Tutti i contenuti, questa roadmap, questa attenzione, le comunicazioni sui social, sicuramente hanno fatto passi da gigante per quello che era il lancio di Vanguard. Ma ancora in season 2, non avere la pausa, quantomeno in singolo posso anche capire che in co-op possa avere qualche ritardo, però per dire su Cold War, è arrivata praticamente fin da subito in co-op, e ovviamente c'era in singolo. Quindi continuo a dirlo, perché quando lo ci dicano, ma se potete mettere in pausa, o comunque giocare con la pausa in offline locale, beh, vi ricordo questo, punto 1 in locale non ci sono i livelli, non ci sono emetiche, non ci sono le sfide, io voglio sbloccare tutto, quindi high round è un attimo relativo. In più, cosa molto importante, i giocatori di PC non hanno locale e offline, loro non possono giocare in locale, non possono avere la pausa. Soltanto questa piccola nota a parte, che come sempre voglio sottolineare, perché è una cosa di cui parliamo dalla stagione 1, e continuo a rimandare. Basta che non faccio la fine delle fazioni di Black Ops 4, che non se ne parla più, in questo caso la pausa è fondamentale, e la voglio sicuro in singolo, e possibilmente anche in co-op, come era esattamente su Cold War. Passando comunque avanti alle vere e proprie patch notes, tra Maledicta e tutte quante le sue arene, la story quest tra Maledicta che parte direttamente alle 18 del 14, che penso anche sia allo stesso orario di lancio season, quindi una delle primissime volte, dai tempi vecchi magari di Black Ops 1, in cui la main quest, l'easter egg, parte contemporaneamente al lancio di una mappa, anche se questa non è una mappa a round, quindi si inizia a giocare, e subito a main quest. Nuova narrativa di Intel, per far andare avanti la storia eteroscuro, e ripeto che voglio un menu come quello di Cold War, per poterle raccogliere e darci un'occhiata, anche perché a me comunque interessano, e per quanto quelle di The Run Fang fossero davvero minime, c'era qualche informazione aggiuntiva, comunque carina da avere. Raygan già disponibile per adesso nella cassa o nei drop in generale, e l'ho trovata in streaming, e l'ho anche utilizzata potenziandola. Aggiungo anche che non so se è scritto nelle patch notes di zombie, che c'è adesso l'ispezione per le armi, e sulla Raygan funziona parecchio bene, sapevo ci fossero problemi con altre armi, inoltre è stata un paio, e funzionava correttamente, ma non saprei dire. Comunque la Raygan posso accennare che non è estremamente potente, non è rotta alla Cold War, ma comunque secondo me è un'ottima arma. Resta il fatto che i pompa con i patti giusti, sono molto più forti e più efficaci. Inoltre a Raygan ha i colpi giusti tipo 40-160 da potenziata, ma raccogli pochissimi colpi dai caricatori per terra. Quindi buona scelta, buona aggiunta, bella da vedere e utilizzare, ma non assurda come magari alcuni si aspettavano. In più dei Simulator Shield, lo scudo come Wonder Weapon, disponibile unicamente su Terra Maledita tramite l'Easter Egg, altrimenti alla conclusione dell'Easter Egg trovabile nella cassa. Offre ai giocatori maggiore protezione e l'abilità unica di Simulation Blast. Ovviamente nuovo alleato per Cana the Last, il Demone dell'Erdio Oscuro che ci raggiunge e ci aiuta con Aura Curativa e il suo artefatto, One of the Wilds. Questo dovrebbe essere già disponibile quantomeno nelle classi predefinite di zombie, e a detta di Lele, che saluto che ha passato in streaming, è un pochino una signora più anziana, non so se parla di reumatismi o altro, comunque ricordiamolo. Ovviamente Zavala Receiver come nuovo nemico disponibile sia su Terra Maledicta che anche su Terra Maledicta, questo viene confermato, e il nuovo obiettivo, Sacrifice, disponibile su entrambe le mappe, Terra Maledicta, e in seguito verrà giunto anche a Terra Maledicta. Inoltre modificati i bonus di XP per l'obiettivo vuoto su Terra Maledicta, una volta che torniamo a Stalingrado, questo è molto importante perché facendo anche dei round 100 in co-op, alcuni ragazzi su Discord mi hanno detto che si fanno uno o due livelli, che è veramente pochissimo per le ore che ci vogliono. Abbiamo già visto nel blog precedente l'artefatto per aura curativa e tutti quanti i suoi tier, ci sono alcuni piccoli cambiamenti a Mina Energia, Frost Blast che sarebbe Creo Esplosione, e anche Schermature Ethere, comunque cose non troppo importanti. Disponibile il nuovo patto Artifact World che ho già potuto provare in streaming perché è già disponibile all'altare dei patti. È quello che appunto una volta che ci colpiscono gli zombie inizialmente alle spalle o in generale, può attivare il nostro artefatto in maniera gratuita. Può essere una cosa veramente comoda con certi potenziali da campo come Creo Esplosione o Nello di Fuoco, e comunque c'è da stare come sempre attenti alla possibile rotazione perché abbiamo soltanto tre patti, quindi per quanto siano tutti quanti secondo me molto efficaci, dobbiamo decidere un attimo la build di ogni singola partita. Ovviamente le armi, le sfide e per gli oggetti di supporto hanno messo finalmente macchina da guerra e macchina mortale come drop per cassa e tutte le casse in giro. Infatti l'ho trovata come drop dello Storm Krieger e ha molto senso perché altrimenti 3000 materiali per questi oggetti non si compravano praticamente mai, sono forti ma non esagerati come era su Cold War. Tre nuovi mimetti che paga punch che saranno disponibili in Terra Maledicta, e quelle invece che sono disponibili adesso su The Run Fang sono al momento animate. Tutte e quante le sfide stagionali come ogni stagione ha lanciato la stagione 2 con il visito da visita finale e una sfida sbloccabile ogni 10 livelli. In più ho risolti alcuni problemi per quanto riguarda l'armi corpo a corpo e i lanciatori che non contavano per certe sfide e mi ricordo che era una cosa che dava veramente tanti problemi. Qui ragazzi questo era l'elenco di tutti quanti i contenuti già disponibili o che arriveranno e già in parte sapevamo per la stagione 2 di Vanguard, ho comunque fatto qualche piccola partita e i miglioramenti leggermente si vedono. Sono comunque curioso per quanto riguarda i contenuti veri e propri perché The Run Fang l'abbiamo già giocata o quantomeno io l'ho giocata un numero di ore veramente sproporzionato. Sono curioso per Terra Maledicta per quanto riguarda i suoi stragg come story quest e tutte queste piccole aggiunte. È un blocco di contenuto abbastanza grosso, non mostruoso perché manca come al solito una mappa around, ma continuo a pensare che non le vedremo qua su Vanguard ma tutte varianti di The Run Fang o quantomeno mappe con diverse arene, una parte centrale, possibili stragg, altre armi, si spera altre wonder weapon o comunque queste aggiunte che come stagione 2 non mi sembra affatto male. Atteniamo pazientemente la pausa e tante altre feature per il momento mancanti e vorrei sapere come al solito tutte quante le vostre opinioni. Perché giocherò a lancio della stagione 2, perché hai già giocato qualcosina, se fate una specie di easter egg hunt o quantomeno cosa vi incuriosisce per questa season e quelle successive. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto vi sia stato utile, come sempre tutte quante le informazioni e diversi link che alcune cose non posso mostrarle a schermo, vi lascio tutto quanto qui sotto in descrizione. Trovate come sempre anche tutti quanti i link per i miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Ci danno come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Paola.